Ciao, sono Massimo Zaccari e sono un musicista. Scrivo e compongo le mie canzoni. Ho 56 anni e un sogno da una vita. Realizzare il mio disco. Ma i sogni non si realizzano da soli. Per farlo ho chiesto aiuto ai miei amici musicisti. Anche per me registrare questo disco è una bella sfida perché puoi dare il libro su fuoco alla tua creatività come batterista, con tutti gli strumenti e quindi diventerà una cosa figa. Per realizzare un progetto del genere avrò bisogno del basso, della batteria, delle tastiere e del fonico. Ho suonato con lui in vari progetti dal funk al jazz al rock. Io credo nel progetto di Massimo con un disco molto vario, un disco con delle composizioni molto valide. La voce e la chitarra ce la metto io. Il progetto di Massimo mi è piaciuto già dall'inizio e io mi occupo della registrazione. Io Massimo lo conosco già da tanti anni. È un bravissimo musicista, chitarrista. Credo nel progetto di Massimo. Spero che anche voi ci credete. Questo non è solo un progetto ambizioso, è il sogno della mia vita. Per realizzarlo ho bisogno di fondi. 20.000 euro sono tantissimi, ma sono convinto che con un piccolo contributo da parte di tutti sia realizzabile. Ho aperto un conto appositamente per questo progetto. Liban lo trovi qui. Credo nel progetto di Massimo e crederci anche voi. Non vedo l'ora di vedere il sogno di Massimo realizzato anche grazie a voi. Conto anche sul tuo aiuto per realizzare il sogno della mia vita.